Siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Orobie Extra e parliamo di Ciaspole. Sul numero di Orobie di febbraio troverete tante mete e tanti servizi per praticare queste belle passeggiate con le racchette da neve. C'è però chi le racchette da neve le prende piuttosto sul serio come Michele Dallara ben trovato che è un vero atleta delle Ciaspole oltre che un runner a tutto campo. Come sei diventato un atleta, un campione delle Ciaspole che è uno sport abbastanza raro, poco visto da noi. Sì, campione è una parola grossa, diciamo che sono un grande appassionato. Otto anni fa Davide Emilesi e Anna Ferrino hanno creduto in me come atleta, come promotore delle Ciaspole, nel fare le gare. Da allora non ho più smesso, partecipo sempre a varie Ciaspolate che ci sono in Italia. Soprattutto ultimamente sono andato a fare la Ciaspolata in Val di Noni il 6 gennaio. Ci sono altre Ciaspolate molto importanti e diciamo se nevica come ne sta nevicando quest'anno, le gare ci sono e si va in giro per il nord Italia a praticare. E la Ciaspolata che è agonistica e quindi richiede un maggiore sforzo. Comunque è una Ciaspola fatta apposta per correre, quindi favorisce la cosa. In pratica appunto correte sulla neve. Corriamo sulla neve, su percorsi diciamo comunque battuti o su delle piste di sci di fondo. Diciamo che non corriamo in natura ma su percorsi battuti, quindi la nostra Ciaspola è inserita con la scarpa inserita sulla punta della Ciaspola e ti permette di fare un movimento naturale come se stessi correndo. Anche dei bei salti. Noi vediamo le immagini di Matteo Zanga nell'altra copertina su Robbio e ti si vede anche impegnato in un salto spettacolare. Sì, con lui ho fatto delle foto stupende ai piani di Bobbio e mi ha fatto fare qualche acrobazia diciamo. È stata una bella esperienza. Quindi anche l'attrezzatura è particolare? L'attrezzatura si tratta di una Ciaspola Baldas che è il nostro marchio. È una Ciaspola abbastanza leggera con una rete in nylon e rispetto alle Ciaspole da camminata non hanno l'attacco dietro sul piede ma dietro il piede è libero. E quindi ti permette di correre in modo naturale anche se comunque c'è da considerare le condizioni meteo, le condizioni della neve e il peso della Ciaspola che comunque influisce. Quindi bisogna essere un po' muscolari e i migliori atleti vengono dalla corsa in montagna che fanno queste gare agonistiche. Anche tu comunque corri anche senza Ciaspola, insomma, anche durante tutto l'anno? Sì, io corro nel Gav di Vertova, faccio corsa in montagna classica diciamo sugli 8-10 km. Poi faccio anche corsa su strada o nel periodo invernale anche campestri. E sei però, sei un atleta, un appassionato ma nella vita fai altro. Come riesci a combaciare tutto? Diciamo che sì, faccio il magazziniere e diciamo che metto l'allenamento come routine della giornata quindi ho il vantaggio di essere costante. Non mi alleno tantissimo, non faccio ore e ore di allenamenti però sono costante. Quindi tutti i giorni cerco di fare qualcosa e tagliarmi uno spazio che non sia solo l'atletica ma anche magari nuoto o bicicletta per alternare l'allenamento e per non caricare troppo gli allenamenti, gli allenamenti di sovraccaricare gli allenamenti diciamo. Quindi anche a livello mentale, a livello fisico non rimane una cosa pesante ma è una cosa che diciamo fattibile per tutti nonostante il lavoro e anche gli impegni familiari ecco. Mi dicevi però che non è facile trovare gare e competizioni da noi. Diciamo che sono stati degli anni un po' sfortunati per la neve perché non arrivava. E quindi gli organizzatori si sono un po' limitati perché o dovevano portare neve artificiale come hanno fatto Avezza d'Olio o anche come facevano la Ciaspolada. Quest'anno che è arrivata hanno tutti paura di rilanciare la Ciaspora. Diciamo che la Ciaspora segue un po' le mode. Comunque si parla comunque di gare di 2.000, 3.000, 4.000 persone. Quindi sono dei bei eventi che secondo me per rilanciare la montagna e il turismo sono delle cose piacevoli da fare, da essere presenti a quel tipo di eventi. E quindi in Italia le principali sono Vezza d'Olio che è la Ciaspolada a chiaro di luna che viene fatta in notturna con la luna piena. La Ciaspolada in Val di Nonche fanno sempre tutti gli anni. il 6 gennaio e la famosa anche la Traccia Bianca che è nel Verbano che è una gara in un po' il contesto naturale molto bello che si corre anche su un lago ghiacciato e quella la fanno a marzo. Ecco, le tre principali sono queste. E tu invece a marzo andrai in Spagna? Vado con due miei amici con la Velli Mangili andiamo in Catalonia a Guille Fontanera che deve essere sui Pirenei tra la Spagna e la Francia. Andiamo a fare un campionato europeo dai nostri amici catalani che vengono sempre in Italia a fare le gare e quindi ci hanno invitato a fare la loro gara che organizzano. Sulle nostre montagne ci sono degli itinerari appunto innevati sui quali ti piace particolarmente allenarti? Ma diciamo, avendo le origini, i nonni di Valtorta, ecco, dalla Val Brembana mi piace andare sulla pista di Roncobello, di sci di fondo sulla pista di Ceresola o anche ai piani di Bobbio diciamo che sfrutto tanto le piste di sci di fondo perché comunque la mia ciaspora è un po' leggera e avendo sulla scarpetta da tennis devo stare attento a non bagnarla subito e quindi preferisco comunque dei percorsi battuti. Quest'anno hanno fatto anche una piccola pista a Lenna che è molto più vicina alla città e anche lì mi sono allenato. Qualche consiglio a chi vuole provarci anche se appunto non è facilissimo diventare atleta in questo campo? Ma il consiglio è che comunque si corre in ambiente naturale molto bello perché se ti trovi nel bosco con la neve sugli alberi perché magari ha nevicato anche la sera prima se solo con te stesso e col tuo fiato e quindi l'ambiente è una cosa favolosa. La fatica si sente ma per una persona che è sportiva che comunque ha un minimo di allenamento consiglio di farla. Comunque le gare che si fanno sono gare sugli 8 chilometri quindi non sono stra impegnative quindi per una persona che è un po' allenata il consiglio è di farla. Naturalmente bisogna avere una ciaspola da corsa che sono le più indicate i due marchi famosi sono le TSL e le Baldas ecco bisogna avere la ciaspora specifica allora ti viene molto più facile e naturale ecco. È bello anche andare più piano comunque con le ciaspole. Sì, 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 sì. Quando c'è da andare a fare una camminata comunque vado piano quindi sia con le ciaspole che a piedi quando si va in montagna è bello ammirare il paesaggio ecco. Grazie Michele in bocca al lupo per la tua attività e per queste nuove sfide. Grazie a voi, un saluto a tutti. E grazie a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima. Grazie a voi.